ciao bestioline eccomi qua pronta per l'estrazione del giveaway qui ho tutti i vostri nomi con i numeri associati non so se mi sto inquadrando come al solito ma che novità è la terza o quarta volta che inizio a fare questo video e qualcuno mi interrompe sono entrate ben due persone senza tossare in casa e mi chiedo ancora perché gli ho dato le chiavi mi ha telefonato mia nonna mentre registravo e visto che registro col telefono mi è andato tutto via e adesso ce la possiamo fare intanto ogni si sta mangiando la cyclette perché lui deve sempre mangiare qualcosa che gioco incredibile adesso lo faccio vedere la cyclette rubata mia zia per fare la fisioterapia addirittura addirittura io so che non mi so spiegare bene ma pensavo che le cose fossero abbastanza chiare nel senso dovevate iscrivervi al canale commentare e mettere mi piace no a quanto pare no non era abbastanza chiaro visto che a parte le prime persone poi mi piace non l'ha messo quasi nessuno anzi mi sono pure arrivati dei non mi piace voglio dire è un giveaway regalo le cose cosa perché perché spiegatevelo che tipo di problemi avete quella gente che vi regala le cose non lo so vabbè intanto hanno deciso anche di martellare perché vuoi mettere non martelliamo vabbè intanto apriamo la gin non demorde non demorde assolutamente non gli piace la cyclette l'odia infatti quando devo fare la fisioterapia lo chiudo in un'altra stanza perché se lo impazzisce si intanto lo stendino allo schifo ma chi se ne frega allora 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 e ogni pianta la però non ti fa niente allora avete partecipato in 19 quindi da 1 a 19 aspettate un attimo che sposto anni ok forse ce la possiamo fare io non so se voi vedete i numeri ma mi sa di no dovrete fidarvi di me allora siamo pronti via perché non vai allora ah sta andando sta andando con molta calma computer non ti preoccupare ma non ci credo non è uscito il numero beh il risultato è qua c'è tutta una linea grigia mi prendi in giro è andato via internet perfetto 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 è andato via internet il computer sembra non caricare più ma che cose fantastiche è ripartito internet è ripartito internet non ce la possiamo fare non ce la possiamo fare allora beh facciamo così io aspettiamo che riparte internet ci vediamo quando sarà ripartito inter ciao ecco qua internet è ripartito ecco qua internet è ripartito un panto e questo vuol dire che è andato via anche internet fantastico vi faccio vedere il numero da vicino dove siete ecco qua il numero 5 ogni lascia stare lo stendino grazie ok allora il numero 5 è il magico mondo di migame dove sei qua eccolo qua quindi lui mi sa allora io in realtà volevo farvi vedere i premi però visto che anche lei ha un canale e che io la seguo quasi quasi il video dove si vedono tutti i premi lo faccio fare a lei o no cosa ne dici Luisa così tu avrai la surprise e anche gli altri potranno vedere quello che hai ricevuto tanto io fra poco non avrò più uno stendino se continuiamo di questo passo vero botolo ho dovuto chiudere lo stendino perché lo tirava giù ecco perfetto niente il video è finito il giveaway è concluso congratulazioni a il magico mondo di Megami e niente ci vediamo al prossimo video spero che non vi disiscriverete tutti quanti in massa e niente ciao